Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qui per il secondo appuntamento della rubrica Tattic Gabbo. Lo scorso episodio abbiamo visto la Juventus, oggi ci occupiamo dell'Inter che affronterà il Parma. Ci sono diversi spunti per quanto riguarda sia la formazione dell'Inter che la formazione del Parma. Innanzitutto iniziamo con la probabile formazione che schiererà Antonio Conte e un 3-4-1-2 con Eriksen che dovrebbe fare il trequartista con Brozovic e Barella Darmian a Chimi e centrocampo. Lautaro e Perisic là davanti e in difesa D'Ambrosio, De Vrai e Bastoni. Facilmente trasformabile in 3-5-2 perché basta che metti Brozovic mediano, Eriksen e Barella mezzale con Darmian a Chimi e Lautaro e Perisic là davanti. Comunque un 3-5-2 mascherato perché vuole giocarsi la carta Eriksen. Invece il Parma è un po' più, è una formazione particolare perché mette in porta Sepe, Grassi, Jacopoi, Gagliolo e Pezzella, il quartetto difensivo, occhio alla posizione di Grassi. Brugman, Hernani e Kurtic a centrocampo, Kucca dietro a Gervinio e Cornelius. Potrebbe tranquillamente diventare un 4-4-2 perché se andiamo comunque sempre a tenere il quartetto difensivo con poi Brugman e Kucca, mediani di centrocampo e Hernani e Kurtic sulle fasce con Gervinio e Cornelius. Attaccanti, occhio a Kurtic e Kucca che durante la partita sicuramente potranno cambiare ruolo, Kurtic potrebbe lui andare a fare il trequartista e Kucca andare a fare il centrocampista, occhio alla velocità di Gervinio e al fisico molto molto importante di Cornelius. Sicuramente una chiave di gioco del Parma sarà quella di cercare Gervinio che magari potrebbe mettere a cross in mezzo oppure palle interessanti in mezzo per Kucca o un Kurtic o un Cornelius. Potrebbe essere questa la chiave di gioco del Parma. Ma detto questo andiamo a vedere chi schiererei io e con che modulo. Metterei Andanovic in porta, difesa 4 quindi un cambiamento per quanto riguarda l'Inter, Darvian, De Vrij, Bastoni e Hakimi in difesa, Brozvic, Vidal, Barella a centrocampo, Eriksen e Perisic dietro Lautaro. Quali vedete esterni ma comunque sarebbero trequartisti dietro Lautaro. in fase offensiva cambiare qualcosa perché andrei a muovere un attimo delle pedine e fare avanzare Hakimi Darmian, Perisic e Eriksen li tarrai larghi con Barella che si potrebbe andare a inserire a ridosso di Lautaro. Ma detto questo ve lo faccio vedere meglio nella nuova postazione che ho creato. Ed eccoci qui nella nuova postazione che è ancora sicuramente da migliorare però voglio farvi innanzitutto vedere qua abbiamo i difensori centrali quindi De Vrij e Bastoni, qui abbiamo i terzini, Hakimi e Darmian, poi abbiamo qua Brozvic, qui sono Barella e Vidal, mentre qua abbiamo Eriksen e Perisic. Cosa intendo? Per far avanzare i terzini e i trequartisti e facciamo anche fare un movimento particolare. Intendo ovviamente che sia Darmian che Hakimi in fase di possesso avanzino diciamo fin qua. dopodiché quindi poi avremo sicuramente un baricentro un po' più alto anche i difensori andranno ovviamente ad alzare in baricentro quindi intenderei giocare con una difensiva molto molto alta dell'Inter per andare a schiacciare bene il Parmo. Ovviamente Brozvic rimane in posizione magari scala un po' verso di qua e Vidal lo metto sempre qui a copertura comunque anche di un'eventuale ripartenza. Poi andrei sicuramente a far scalare Perisic verso l'esterno così come Eriksen anche lui verso l'esterno e Lautaro là davanti. Quindi presumerei un gioco con facciamo finta, giriamo palla qua tra De Vrij e Bastoni allarghiamo lunga verso uno dei due terzini in lungo linea dentro ho Perisic o Eriksen Varela comunque anche si deve buttare dentro per un eventuale cross Perisic butta in mezzo e qua dentro ci sarebbe Lautaro pronto a mandare in rete. Fatemi sapere ovviamente voi cosa ne pensate se diciamo anche in un anzitutto avete capito quale potrebbe essere le mie idee di gioco. In poche parole intenderei un Inter in fase offensiva con Varela che sicuramente va ad aiutare Lautaro in mezzo all'aria a Vidal e a Brozovic in copertura e a Kimi e a Armian magari una volta a testa non tutti insieme andarsi a sovrapporre per Perisic ed Eriksen anche Perisic ed Eriksen comunque essere mobili non dare diciamo punti di riferimento alla difesa del Parma. Questa è la mia Inter in fase offensiva fatemi sapere la vostra sotto con un commento lasciate un mi piace, un bel commento iscrivetevi al canale mi raccomando molto molto importante noi ci vediamo al prossimo video Bella ragazzi